Per quanto Netflix sia poco trasparente rispetto agli ascolti, è ormai chiaro che Britterton, in streaming dal 25 dicembre la nuova serie dai creatori di Grace Anatomy, è tra quelle che hanno avuto più successo della stagione, e tanto che già si sta parlando di una seconda da mettere in produzione a marzo 2021. Buone notizie per la produttrice Shonda Rimes e lo sceneggiatore Chris Van Dusen, che in precedenza avevano già firmato progetti molto importanti dal calibro di Grace Anatomy e Scandal, e che ora hanno tra le mani una nuova gallina dalle uova d'oro, che oltretutto potrebbe rappresentare un'eccezione rispetto alla nuova strategia industriale di Netflix. Per il momento non è stata ufficializzata nessuna seconda stagione, se ne parla solamente, e forse qualcosa è stato già scritto, o meglio, se qualcosa è stato scritto ancora non è diventato di dominio pubblico. Se però tutto andrà come pare, allora la seconda stagione sarà l'adottamento del secondo romanzo della saga, scritta da Julia Quinn. Questo significa che la trama ruoterà attorno ai membri della famiglia Bridgerton, con un'attenzione particolare per le tribolazioni amorose dei più grande dei figli di casa, Anthony. Aspettiamo il ritorno del cast principale, ma anche l'ingresso di nuovissimi personaggi. In genere, Netflix annuncia i rinnovi solo dopo mesi, ma in questo caso possiamo sbottonarci, perché la piattaforma e la produttrice Shonda Rimes hanno un accordo che vale per otto produzioni in totale. E, guarda caso, i romanzi da cui prende ispirazioni Bridgerton sono proprio otto, e se la serie dovesse avere successo come quello che sta avendo anche per le prossime stagioni, potrebbe allungarsi per moltissimo tempo. Le riprese sono previste per il mese di marzo, quindi una seconda stagione, nella migliore delle ipotesi, non arriverà prima del mese di dicembre del 2021.